buon ciao agliù benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video che ho portato il mio nuovo mazzetto oggi un mazzetto cangerogeno molto cangerogeno era stato creato pensato più che creato per cercare di disinescare il decco con lucca però andiamo a vedere adesso la versione aggiornata post ban dovremmo giocare solo durante il turno dell'avversario tranne pochi casi tanti counter negate ma neutralizza magia non creatura due mana neutralizza magia creatura due mana neutralizza abilità attivata abilità innescata o magia leggendaria avversario o sempre a due mana domanda specifici neutralizziamo distruggiamo ma neutralizziamo magia bersaglio distruggiamo creatura bersaglio cosi mana convertito pari inferiore al numero di carte presenti nel cimitero dell'avversario 4 counter con ciclo a 3 mana 3 contese mistiche per neutralizzare il teferi turno perché teferi la carta che distrugge questo decco oa meno si era per lo distrugge quattro interventi di tassa neutralizza se non paga il doppio di x o guardiamo le prime x carte ne aggiungiamo due forte e qua finiamo con la base counter sono 7 11 13 16 counter non tutti generici alcuni specifici però dovremmo anche pescare fare altro come distruggere le minacce dell'avversario due cavalcanti omicida per distruggere ok per distruggere i press walker o creatura 3 mana istantaneo avventura perdiamo due punti vita sempre a 3 mana legame vitale 23 muore in fondo a deck le altre due creature sono i furfanti strontati 3 mana 3 1 al lampo il nostro furfante oltre a volare però l'avventura estantaneo 2 mana rimbalgiamo permanente non terra dell'avversario e ultima creatura la serpe del lock mare o male nero mana blu 4 in colore 7 7 lampo perciò come vi ho detto l'unica carta che dovremmo giocare per forza nel nostro turno è il cavalcanti il resto li potete giocare in qualsiasi momento che farei a parte comanda blu sacrifichiamo isola e non può essere bloccato umana nero sacrifichiamo palute guadagniamo uno e peschiamo una carta 2 ma tra due mano uno blu e uno nero esiliamo cinque carte bersaglio dal cimitero di un avversario e riprendiamo in mano la serpe dal cimitero e questa abilità deve essere fatta come secondaria è un altro modo per vincere oltre ad avviare il piano finale pochi meridi per vincere però ottimali più o meno poi dipende sempre situazionale però ve l'ho detto un decco due cerchi di proteggiare determinati decco è molto un antimeta avviare piano finale a sei mani istantaneo non può essere neutralizzata peschiamo due e reclutiamo x 2x il numero di carte che abbiamo nella nostra mano perciò iniziamo a creare uno zombie che diventerà sempre più grosso pari al nostro piano finale forte perché non può essere neutralizzata e istantaneo ci fa pescare creiamo pezzo e può picchiare anche press walker o avversari altri removal per le creature due interventi di air boss per lo più perché ci fa guadagnare punti vita dando meno x meno x a una creatura bersaglio due atti spietati per distruggere una creatura bersaglio senza segnalini a due mana o rimuovere fino a tre segnali da una creatura bersaglio molto molto forte un divorare fino all'estinzione per esiliare creatura o bless walker bersaglio tra virgolette sorvegliamo cioè guardiamo la prima carta e la possiamo mettere cimitero fortissima una delle comuni forti del deck troppo forte tre ma l'avversario bersaglio sacrifica la creatura un avversario bersaglio sacrifica un incantesimo ne possiamo scegliere solo uno ma il remover per la pescatrice come peschini abbiamo due presaggi blu o flash quando facciamo profetizzare due peschiamo una e tre ma la sacrifichiamo e profetizziamo due un'intuizione della chimimaga non mi ricordo come si chiama un clink to dust vabbè lo dico così poi in descrizione no anzi nei commenti nel primo commento trovate la lista del deck esiliamo una carta da un cimitero se serve una carta creatura guadagniamo tre altrimenti peschiamo una carta e in più a fuga 4 esiliando altre cinque carte la rigiochiamo è questo il nostro deck proprio cangerogeno al massimo solo carte brutte e infine le terre 25 terre 6 7 8 isole 5 paludi 13 13 15 con due castelli di vantressa un campo della rovina per spaccare terra soprattutto quella che fa pedina quella che fa pescare le terre odiose un detto da discofos per rimuovere dal combattimento una creatura attaccante o bloccante bersaglio quattro tempi del dell'inganno e quattro tombe d'acqua 25 lande tutto il resto sono carte bellissime figo che come vi ho detto non giochiamo quasi nel nostro turno tranne al gioco prolungato il nostro fighissimo cavalcante nella side troveremo quello che ci manca per andare contro un determinato deck fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale mettete like al video supportate mi commentate ditemi cosa ne pensate richiedete il vostro deck sempre a disposizione e sempre sul pezzo con tanti aggiornamenti su magic detto questo detto tutto persino gli dei si inginocchieranno e baciato si man bella voglio al prossimo video ciao